All'anagrafe si chiama James Webb, ma il nome, o meglio, la loro acronimo è G.D.A.V. e si traopta di un telescopio, è il più grande occhio terrestre, che, pensate, è qualcosa di epico. Infatti questo essere, questo mostro, chiamiamolo sacro, lanciato da uno spazio, è un rivoluzionario telescopio che scoprirà le origini del nostro universo. In creato, infinito ed eterno, così lo stesso Serafino Massotico lo definisce, no? Cercherà di capire in che modo il nostro pianeta, la Terra, coabita in questo universo, ricolmo di estetica. Tutto quello che riuscirà a studiare sarà ovviamente frutto delle osservazioni complete, totali e efficaci che questo telescopio andrà a realizzare. Non è il primo telescopio spaziale, il progetto infatti arriva, dopo diverse esperienze, da parte di quelli che sono stati i suoi predecessori, il famoso Spitzer, per citarne uno, o un altro molto famoso, il famoso Hubble. La differenza però con i predecessori riguarda la grandezza, Hubble ha un specchio di osservazioni ottiche di quasi 2,5 metri, e 5 strumenti scientifici che permettono di osservare anche nell'ultravioletto, ma anche nell'infrarosso. Insomma, un telescopio davvero capace di grandi cose, un telescopio davvero straordinario, un telescopio davvero favoloso, un telescopio davvero rivoluzionario. Bene, James Webb Telescope, ricordatevi questo nome. Da Renato Narado di Daniel è tutto, un saluto caro, auguri di buon Natale.